una passeggiata la strada 43 comunico di marzo oggi domenica 10 a 7 marzo 2000 e 24 come ogni giorno faccio la mia passeggiata quotidiana è bello andare lì invece qua c'è il bar sattore bella giornata realmente si sente l'approssimarsi della primavera tra quattro giorni è primavera ma senza aspettare il 21 di marzo la primavera è iniziata bella giornata stamattina all'orto sono tornata a casa verso mezzogiorno e mezza ho mangiato, ho riposato un po' e adesso per una migliore digestione per un relax il pedalo ecco il viburatore da comunque le manzi le acque vengono viburate qui guardiamo lì la recusenza e certamente sicuramente dentro una settimana se continuerà continuerà questo bel tempo un bel pezzo gran parte no gran parte diciamo che il 30-40% dei terreni saranno seminati qui a Fucino salvo imprevisti perché dal tempo buon tempo e mal tempo di tutto ci si può aspettare a tutti grazie a tutti